Sabato 2 giugno, con partenza ed arrivo da Piazza della Repubblica d'Eboli, la sesta cicloturistica alle terre della Bufala, organizzata dalla SD ciclistica Eboli Sele Bike del Presidente Damiano Capaccio, con il patrocino del Comune di Eboli della Wisp Lega Ciclismo. Un tour in bicicletta lungo il fiume Sele ed il soffluente calore nella incantevole bellezza della Piana del Sele, tra paesaggi mozzafiato e tenute secolari, per rivivere il mito del Grand Tour dei viaggiatori del 700-800. Quest'anno i 300 ciclisti previsti alla partenza provenienti da tutta la Regione Campania si apriranno le porte alla visita della Casina Reale dei Borboni nella tenuta militare di Persano e la visita all'azienda Sant'Antonio con tradizionale buffet offerto dalla famiglia Giuliano di Albanella.